Amici di Armitiro eccoci a voi per un'altra puntata della nostra Academy con la quale cerchiamo di districarci tutti insieme nel complicato mondo della normativa in materia di armi. L'oggetto della nostra puntata è quello relativo alla disciplina delle armi ad aria compressa e gas compresso e degli strumenti sempre ad aria compressa o gas compresso che fanno parte diciamo comunque del mondo generico diciamo degli strumenti ad aria compressa. La distinzione diciamo tra strumenti e armi come potrete vedere nel prosieguo è tutt'altro che casuale e secondaria. Allora dobbiamo innanzitutto fare una prima elencazione di massima per quello che riguarda la progressione diciamo di potenza che riguarda questo tipo di strumenti in funzione della quale ovviamente cambia la normativa. Il gradino più basso diciamo della potenza è quello degli strumenti cosiddetti soft air poi vengono gli strumenti di modesta capacità offensiva poi vengono i come si dice proiettori diciamo destinati al paintball che sono ancora un gradino superiore rispetto agli strumenti di modesta capacità offensiva e poi infine vengono le vere e proprie armi ad aria compressa o a gas compressi. Partiamo appunto come abbiamo detto dal basso quindi dalle soft air. Che cosa sono le soft air? Le soft air sono nella maggior parte dei casi riproduzioni di armi vere esteticamente realizzate con materiali che non consentono la trasformazione in armi vere nella maggior parte dei casi plastiche o nei casi più pregiati diciamo così sono materiali metallici come la zama piuttosto che o l'alluminio e sparano dei pallini sferici di plastica. questo da un punto di vista tecnico diciamo così i pallini di plastica nella maggior parte dei casi sono calibro 6 mm ma esistono anche altri calibri questo da un punto di vista tecnico da un punto di vista giuridico che cosa siano gli strumenti soft air ce lo dice l'articolo 5 della legge 110 del 75 che vado a leggervi gli strumenti denominati soft air vendibili solo ai maggiori di 16 anni possono sparare pallini in plastica di colore vivo per mezzo di aria o gas compresso purché l'energia del singolo pallino misurata un metro dalla volata non sia superiore a un joule la canna dell'arma qui già la legge stessa fa un po di confusione prima lo chiama strumento poi lo chiama arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento torna a chiamarlo strumento per un pari tratto quindi facciamo la somma questo tipo di strumento non può essere realizzato abbiamo detto con materiali che ne consentano la trasformazione un'arma vera deve avere la canna o la parte anteriore verniciata di rosso per tre centimetri deve avere una energia cinetica massima di un joule e può essere venduta solo ai maggiori di 16 anni completiamo il concetto la vendita ai maggiori di 16 anni non è soggetta ad alcun tipo di autorizzazione quindi non ci vuole il porto d'armi o nulla osta men che meno deve essere denunciata la detenzione men che meno sono soggetti sono stati sono previsti limiti alla detenzione in termini numerici quindi se uno si vuole fare una collezione di 5.000 soft air lo può fare e non deve chiedere autorizzazione a nessuno perché sono fondamentalmente giocattoli tutto ciò premesso in realtà c'è comunque un limite previsto dalla legge e in particolare dall'articolo 4 secondo com della legge 110 del 75 che ci dice che sostanzialmente le soft air analogamente a quanto accade per esempio anche con le cosiddette scacciacani quindi gli strumenti di segnalazione acustica non possono essere portate fuori di casa senza giustificato motivo quindi significa che se io devo partecipare a un cosiddetto war game quindi una competizione che prevede l'utilizzo degli strumenti soft air avrò sicuramente un giustificato motivo per portare la soft air con me sicuramente quanto meno quando sono nel mezzo del gioco quando sto andando al campo di gioco e ne sto tornando la cosa migliore è tenere la soft air ovviamente scarica e poi chiusa in una valigetta in una borsa in un contenitore che non ne consenta diciamo l'immediata fruibilità perché altrimenti ovviamente si contesta il porto e non il trasporto e il porto necessita del giustificato motivo è chiaro che nel momento in cui c'è qualcuno che diciamo si sente molto tattico e decide di uscire di casa con la soft air infilata in una fondina come se fosse un'arma vera è chiaro che nel momento in cui dovesse subire un controllo o attirasse l'attenzione delle forze dell'ordine potrebbe essergli contestato il porto senza giustificato motivo di una soft air che attenzione è penale è penale quindi tenete molto presente questo aspetto passiamo alla famiglia diciamo di armi immediatamente superiore che è quella degli strumenti delle armi di modesta capacità offensiva in questo caso armi scusatemi le armi di modesta capacità offensiva sono disciplinate diciamo nella loro essenza da una legge del 1999 che è la numero 526 nel dettaglio da un successivo decreto ministeriale che è il numero 362 del 2001 fondamentalmente è previsto per gli strumenti di modesta per le armi di modesta capacità offensiva che in questo caso possano sparare pallini diciamo di qualsiasi calibro dimensione e anche materiale purché si tratti di materiali inerti quindi non possono per esempio contenere polvere urticante la precisazione è meno banale e meno superflua di quello che possa sembrare perché in altri paesi come per esempio la germania in questo tipo di strumenti per questo tipo di strumenti esistono anche pallini anche se sono piuttosto grossi che hanno dentro polvere urticante questo tipo di pallino in italia non è consentito dicevamo non posso possono avere diciamo qualsiasi calibro qualsiasi materiale quindi gomma plastica ceramica piombo anche piombo naturalmente acciaio qualsiasi materiale il limite anzi i limiti sono due non possono avere funzionamento completamente automatico quindi a raffica cosa che invece non è richiesta per le soft air che possono anche sparare a raffica e devono avere un'energia cinetica massima in nessun caso superiore a 7,5 joule quindi siamo passati da un joule a 7,5 joule ci sono altre differenze per esempio per quello che riguarda le armi di modesta capacità offensiva non è in alcun modo previsto che ci sia un tappo rosso o una verniciatura rossa intorno alla canna alla volata alla parte anteriore dell'arma per quello che riguarda i criteri di acquisto e di detenzione possiamo dire che l'acquisto è consentito in armeria ai maggiori di 18 anni in questo caso e non 16 non è previsto nessun tipo di portodarmi nulla osta per l'acquisto semplicemente la carta d'identità che serve più che altro a dimostrare che il soggetto ha già 18 anni compiuti non serve denunciare la detenzione anche in questo caso il porto intendendosi quindi con l'arma carica e nella pronta disponibilità o anche scarica ma comunque nella pronta disponibilità sempre secondo il decreto ministeriale del 2001 è consentito con giustificato motivo mentre invece ovviamente è consentito senza particolari vincoli o limiti il trasporto e il decreto del 2001 prevede anche la esplicita possibilità di farne utilizzo oltre che nei poligoni anche in un luogo idoneo non aperto al pubblico è anche consentito l'utilizzo ai minori purché sotto la supervisione di un maggiorenne diciamo che in estrema sintesi questa è la disciplina vigente per quello che riguarda le armi di modesta capacità offensiva è chiaro che ci sono molti altri aspetti che riguardano per esempio la importazione esportazione tutte queste cose qui ma appare tutto sommato ridondante parlarne in una puntata tra virgolette generica come questa è importante tuttavia dire che nel momento in cui un soggetto che ha comprato in armeria una modesta capacità offensiva e vuole cederla regalarla venderla o anche darla incomodato a un altro soggetto il decreto del 2001 prevede che si faccia una scrittura privata tra i due acquirente e cedente che peraltro non viene indicato nessun limite temporale entro il quale deve essere conservata quindi se cedete comunque queste armi di modesta capacità offensiva a un terzo la cosa migliore è che facciate due righe scritte con le generalità dell'acquirente e del cedente e che ve la teniate da qualche parte a futura memoria la scrittura privata sempre secondo quello che dice il decreto del 2001 non è prevista nel momento in cui si parla di comodato non superiore alle 48 ore ora è chiaro che diventa anche un pochino difficile nel momento in cui non c'è niente di scritto stabilire quando abbia avuto inizio effettivamente il comodato ma questo è un altro discorso la famiglia diciamo di strumenti al livello ancora superiore è quella dei cosiddetti marcatori paintball che cosa sono i marcatori paintball i marcatori paintball sono degli strumenti a gas compresso ad aria compressa che servono per giocare al paintball un gioco nel quale normalmente si opera diciamo a squadre contrapposte e si cerca allegramente di spararsi addosso l'uno con l'altro con questi strumenti che sparano delle sfere riempite di colore di tinta atossica che ovviamente quando colpisce l'altra persona si schiaccia e lascia una chiazza di colore questo in estrema sintesi per molto tempo in italia non c'è stata una normativa che disciplinasse che cosa fossero questi marcatori che quindi in in molti casi sono stati anche assimilati alle armi comuni da sparo nel momento in cui comunque avevano una potenza superiore ai 7,5 joule recentemente è stata fatta una modifica all'articolo 2 della legge 110 del 75 prevedendo una specifica disciplina che dice non sono armi gli strumenti ad aria compresso e gas compresso a canalisce funzionamento non automatico anche in questo caso non possono sparare a raffica destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule quindi siamo su un gradino ancora superiore purché di calibro non inferiore a 12,7 mm e non superiore a 17,27 mm il banco nazionale di prova a spese dell'interessato procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti gli strumenti che erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica attenzione in realtà sui marcatori è stato poi emanato un regolamento ministeriale nel 2020 che dice sostanzialmente che sia che abbiano potenza inferiore ai 7,5 joule sia tra 7,5 e 12,7 joule in realtà possono essere portati e utilizzati al di là diciamo di quello che succede tra le quattro mura domestiche solo nei campi nei quali si gioca il paintball questo fondamentalmente poi chiaramente quelli sotto i 7,5 joule possono essere utilizzati sia per l'attività agonistica sia per l'attività amatoriale quelli sopra i 7,5 joule possono essere invece utilizzati solo per l'attività agonistica quindi siamo arrivati a un gradino ancora superiore il gradino massimo diciamo così è quello delle armi vere e proprie a dare a grass compressi che secondo l'articolo 2 della legge 110 del 75 nel momento in cui hanno un'energia cinetica superiore ai 7,5 joule e non sono ovviamente marcatori quindi sono destinati a sparare di nuovo pallini e non capsule marcatrici sono armi comuni a tutti gli effetti quindi che cosa significa significa che per l'acquisto occorre il porto d'armi o nulla osta deve essere denunciata la detenzione entro 72 ore dall'acquisto e per quello che riguarda il porto può essere effettuato solo da chi abbia lo specifica licenza di porto d'armi per difesa personale altrimenti è consentito il trasporto fino al campo di tiro e viceversa ovviamente essendo armi a tutti gli effetti rientrano nei limiti previsti dalla denuncia delle armi per le armi comuni da sparo in senso ampio del termine nel senso che se sono armi comuni a questo punto se ne potranno detenere fino a tre se sono armi sportive se ne potranno detenere fino a 12 le armi ad aria compressa non possono essere considerate armi da caccia perché il loro impiego in italia a caccia non è attualmente consentito quindi un'arma ad aria compressa sarà comune da sparo oppure se è stata effettivamente classificata sportiva ai tempi del vecchio catalogo nazionale o adesso dal banco nazionale di prova rientrerà tra le armi sportive diciamo che può esserci anche una categoria residuale che se è di costruzione anteriore antecedente al 1890 può essere considerata arma antica però diciamo che riguarda un numero abbastanza esiguo di persone anche lì un'altra distinzione fondamentale appunto tra le armi ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule e quelle inferiori è che le armi di modesta capacità offensiva quindi quelle sotto i 7,5 joule possono ovviamente essere detenute in numero illimitato perché non sono neanche soggette a denuncia ecco un altro degli aspetti da considerare è che mentre per le armi degli articoli 1 e 2 della legge 110 del 75 agli articoli 20 e 20 bis sono previsti degli specifici adempimenti per la custodia delle armi analoghi adempimenti per la custodia delle armi con diligenza e impedendo che certe categorie di persone non se ne possano facilmente impossessare non sono previsti quindi per quello che riguarda le armi di modesta capacità offensiva diciamo si possono detenere in maniera molto più tranquilla senza la necessità di prevedere un luogo idoneo di detenzione chiuso a chiave un armadio blindato o che so io mentre invece per le armi ad aria compressa full power così come per le armi da fuoco è necessario prevedere degli accorgimenti diligenti per la custodia mentre ovviamente sono previsti degli accorgimenti di questo genere per le soft air mentre invece attenzione il decreto ministeriale del 2010 sui marcatori paintball anche in quel caso dice che pur essendo di libera vendita di libera detenzione eccetera eccetera bisogna comunque avere una custodia attenta diciamo per fare in modo che non se ne impossessino altri questo in estrema sintesi è la normativa riguardante la cosiddetta aria che tira e speriamo di non avervi come al solito confuso le idee più che chiarite e naturalmente se avete domande richieste di chiarimenti siamo qui per voi